Ciao ragazzi, ben ritrovati, mi sono incastrate i capelli nella maglia, ciao! Ciao a tutti ragazzi, nuova puntata di Monkey Island, affanculo è già finito! Ciao ragazzi, siamo ancora qua perché non avevo un cazzo da fare e quindi volevo registrare la puntata di Monkey Island perché così potrò cominciare Walking Dead, ma penso che questo video non lo utilizzerò proprio per nulla. Ciao ragazzi, siamo ancora su Monkey Island, vi ricordate l'ultima volta che siete andati affanculo? Non so se sono il cugino It o Samara, di The Ring No, sono sempre io, sto meglio prima Ciao ragazzi, nuova puntata di Monkey Island 2 Eravamo rimasti sempre sulle isole perché Monkey Island è un'isola che triste Venezia Ciao ragazzi, mi devo pettinare, per questo ho acceso la cam, non per altro, figa che caldo Ciao ragazzi, siamo su The Sims 4 ragazzi Quindi, che ci frega direte voi? Vabbè, fate voi, se lo volete guardare lo guardate Se non lo volete guardare E' lungo Ciao ragazzi, ben ritrovati, siamo su Life is Strange, nuovo episodio Questo, questa la vacca Ciao ragazzi, siamo di nuovo su Sono in rec Sì, porca puttana Minchia, che cappelli sembra un leone Cazzo Che poi non capisco mai dov'è la destra e la sinistra Perché se faccio così io vedo di là No, di qua, di là Mi casino Ciao ragazzi, siamo tornati E' su... Perchè? Mi rifiuto Siamo su Guy... Siamo su Guybrush Tripwood No, saremo su Monkey Island ragazzi Ho un trip mentale in questo momento Lasciamo stare va Ciao ragazzi, siamo ancora su Life is Strange Pensa, c'è ancora un altro pochino va Ciao ragazzi, siamo ancora su Monkey Island Siamo finalmente a fare in culo Grazie Ciao ragazzi, sì A voi ciò che io mi petti non me ne frega un cazzo A questo punto avrei dovuto già iniziare Ma siccome mi fa male qua Qua, non so se si nota Ho una botta dovuta alla caduta dell'altro ieri Allora, mi fermerai qui Ciao ragazzi Ancora su Monkey Island 2 Abbiamo raggiunto l'isola di Dinky E oggi andremo a vedere su questo Ciao a tutti Nuova puntata di Monkey Island E se questa mosca mi passa di nuovo davanti La mangio Ciao ragazzi Siamo ancora su Monkey Island 2 E l'ultima puntata ci aveva fatto schifo Ciao ragazzi Siamo tornati su... Perché... Mi rifiuto Ciao ragazzi Ben... 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 Ben...